Ciao a tutti dal Salutatore, grandissima sorpresa, mi trovo con la bravissima attrice Marzia Chiripa, chi meglio di lei lo può pronunciare meglio, allora Marzia io ti chiedo un saluto a tutti i tuoi fan che ti seguono, vi mando un grande saluto, un bacio grandissimo e viva la vita, viva un messaggio positivo direttamente dalla festa del cinema di Roma su Red the Carpet, vuoi fare un saluto speciale a chi lo vuoi fare oltre i tuoi fan? I would like to say hello to all my friends in New York, tutti i miei amici di Roma, tutto il mondo e tutti gli attori e tutti gli organizzatori della festa del cinema e tutte quelle persone che lavorano e che nessuno le vede, che sono tantissime, dietro le quinte, quando sottotolo i tassetti, chi dà vita, la vitina, le maestranze, tutte le maestranze sono quelle che davvero hanno reso possibile la realizzazione di tutto ciò. Io ti ringrazio e ti do la manina del Salutatore. Ciao! Ciao! Goodbye! Ciao! Ciao! Ciao!